Questa mattina allo stadio Mazzella di Ischia i bambini del primo circolo didattico hanno partecipato alla consueta giornata dedicata alla legalità. Presenti le rappresentanze di polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, croce rossa e protezione civile, che attraverso delle simulazioni pratiche hanno dato un saggio della propria professionalità. Grande partecipazione da parte dei piccoli che, comodamente sistemati sulle tribune dell'impianto di Fondobosso, hanno osservato le dimostrazioni delle forze dell'ordine con grande attenzione, non prima dell'immancabile inno nazionale. A questo punto la Guardia di Finanza ha mostrato ai giovani studenti del primo circolo didattico in che modo le unità cinofile possono risultare decisive nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, riuscendo ad individuarle anche occultate all'interno di borse da viaggio. I vigili del fuoco hanno mostrato tutta l'attrezzatura in dotazione di un'autopompa, dando anche prova della potenza di un getto d'acqua di quelli che spesso possono salvare una vita. È stata poi la volta della Polizia di Stato che ha allestito una vera e propria messa in scena, simulando la fuga da parte dei rapinatori di una banca ad un posto di blocco con tanto di effetti sonori e inseguimento sulla pista di atletica del Mazzella fino ai piedi della tribuna. I finti rapinatori, bloccati, venivano arrestati anche con l'ausilio dell'unità cinofila, acclamata dai bambini. Al termine delle dimostrazioni i bambini sono scesi dalle tribune per una pacifica invasione di campo. Ad attenderli agenti di polizia, carabinieri, finanzieri, pompieri, che hanno piacevolmente mostrato loro i mezzi di trasporto o magari la divisa, cercando di avvicinare una volta di più la società civile, seppure in giovane età, con le forze dell'ordine.